Nella giornata di oggi ad Agropoli ricorre l'anniversario della morte di Padre Giacomo Selvi, che dedicò la propria vita al servizio dei poveri e della Chiesa. Padre Giacomo morì all'età di 49 anni, il 29 settembre 1987, nella cittadina agropolese. In occasione del ventinovesimo anniversario del transito al cielo, Padre Giacomo sarà ricordato con una solenne messa di suffragio, questa sera alle ore 19.30, nella Chiesa del Sacro Cuore. Durante la sua permanenza ad Agropoli, dedicò il suo tempo oltre che all'annuncio missionario del Vangelo, anche alla costruzione della Chiesa del Sacro Cuore. Il ricordo del frate Francescano, come una persona umile e generosa, è ancora vivo nella memoria di tutti coloro che lo conobbero, lasciando un ricordo meraviglioso di fede e amore verso il prossimo.